Il comune di Teramo sospenderà tutte le iniziative di progettualità sul vecchio stadio comunale alla luce del pronunciamento del Consiglio di Stato sul ricorso della straferro. Attesa per oggi la sentenza del Tribunale di Teramo sul processo per l'omicidio di Adele Mazza, l'unico imputato Romano Bisceglia rischia l'ergastolo. Una clamorosa svista ma ora la Regione deve rimediare chiedendo al Governo la proroga dello stato di emergenza per l'alluvione del 2011 e quanto sostiene il consigliere regionale del PD Claudio Ruffini. Pio Rapagna, presidente del Comitato Città per Vivere, ha deciso di iniziare lo sciopero della fame contro la riperimetrazione per la salvezza del Borsacchio. Teramo Basket a caccia stasera dell'impresa a Roma dopo la sconfitta di Casale contro Siena. Cerella stringe i denti, Lulli in dubbio. Giulia Nova Fondi verrà recuperata il prossimo 25 aprile ma la squadra di Tosi tornerà in campo già dopo domani per la trasferta contro la Vibonese. Sconfitta in dolore per la leader Coppa Salerno ma si ferma Elena Barani. La tecnoelettronica vende cara la pelle ma si arrenda il Bolsano. Buongiorno e benvenuti al telegiornale di Teleponte. Buongiorno, questa è la prima edizione. Apriamo con la cronaca giudiziaria e attesa per oggi la sentenza del Tribunale di Teramo sul processo per l'omicidio di Adele Mazza. La teramana uccisa è fatta a pezzi nell'aprile del 2010. Romano Bisceglia è l'unico imputato per l'omicidio della donna. Ma noi abbiamo in collegamento Roberto Almonti che sta seguendo la vicenda. Almonti, allora, com'è la situazione oggi? Siamo praticamente alle battute finali di questo processo che ha affascinato un po' l'opinione pubblica come delitto afferrato che, vi ricordo, fu commesso nella Pasqua di due anni fa, nell'aprile 5 aprile del 2010, quando il cadavere a pezzi di Adele Mazza fu ritrovato nella scappata di Via Franchi alle porte di Teramo. Dalle 10.45 di oggi sta parlando la difesa dell'unico imputato, Romano Bisceglia. L'avvocato Barbara Castiglione ha ovviamente fornito una versione diversa dei fatti, puntando sull'innocenza del suo assistito e sottolineando come, probabilmente, dovuta ad una carenza e approssimazione delle indagini da parte degli investigatori, soprattutto sui rilievi tecnici, in particolare l'avvocato Castiglione ha criticato molto il lavoro e l'operato dei RIS, si potrebbe arrivare, si rischia di arrivare a trovare un colpevole e non il colpevole di questo delitto. L'avvocato Castiglione ha sottolineato e probabilmente al termine della sua ringa difensiva ci fornirà un quadro decisamente forse più dettagliato, individuando forse anche quella che la pista alternativa che le sue indagini difensive avrebbe individuato, e cioè dare un nome e un cognome ai probabili veri assassini, secondo il suo dire, delle Mazza. Ha sottolineato infatti il particolare dettaglio che fino ad oggi non è stato abbastanza approfondito il discorso relativo alla scena trovata dagli investigatori a casa di Adele Mazza, non a casa di Romano Bisceglie, che fino ad adesso è stato un po' il teatro su cui si è concentrata l'attenzione di questo processo, così come delle indagini. Secondo la difesa di Bisceglie a casa Villa Gesso, nelle case popolari di Villa Gesso, l'appartamento di Adele Mazza è stato trovato come quello di una persona che lascia momentaneamente l'abitazione per farvi rientro dopo un po'. Secondo l'avvocato della difesa, questo significherebbe che la donna è stata fatta scendere con una scusa per essere poi praticamente trasportata altrove, strangolata e poi fatta a pezzi, buttando il cadavere nel fossato di Via Franchi soltanto per cercare di addossare responsabilità e i sospetti su Romano Bisceglie. Vedremo come si svilupperà la ringa che è prevista concludersi intorno alle 15-15.30 di oggi pomeriggio, poi ci saranno sicuramente le repliche del Pubblico Ministero Roberto Davoglio e delle parti civili. Il giudice Cirilo della Corte d'Assise di Teramo ha garantito che la sentenza si avrà sicuramente in tarda serata. Ringraziamo Roberto Almonti, il telegiornale ovviamente va avanti e torniamo a parlare del teatro a Teramo. Il Comune di Teramo sospenderà tutte le iniziative anche in fatto di progettualità sul vecchio stadio comunale alla luce del pronunciamento del Consiglio di Stato sul ricorso della Straferro. Sentiamo. Sindaco, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso della Straferro relativamente a quelli che erano gli impedimenti della Prefettura di Ascoli? Ma, innanzitutto, il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di sospensiva del provvedimento. Il provvedimento, il ricorso era stato fatto nei confronti della Prefettura di Ascoli, per cui sarà la Prefettura di Ascoli che adesso eventualmente dovrà prendere una decisione in base a quello che il Consiglio di Stato ha detto. Quindi per noi resta la situazione quella che è, cioè in particolare il fatto che noi abbiamo un'informativa che ci obbliga a un atteggiamento e quindi il nostro atteggiamento oramai è già definito e consolidato, nel senso che noi abbiamo fatto gli atti che la legge prevede, poi stiamo qui, aspettiamo, voglio dire, se ci saranno nuovi sviluppi, ma non è nei confronti dell'amministrazione comunale il provvedimento. E' chiaro che questo provvedimento ritengo ci sarà notificato, sarà notificato anche a noi nei prossimi giorni, a quel punto diciamo che è opportuno sospendere tutte eventuali iniziative che magari ci potevano essere in un discorso di progettualità relativamente a quello spazio, ovviamente, perché insomma adesso diciamo tutto il discorso è sempre subiudice, perché bisognerà vedere che cosa la Prefettura farà, insomma in base a quello che ha detto il Consiglio di Stato, però per quanto ci riguarda in questo momento a oggi a noi cambia poco, nel senso che per noi resta quella informativa e il resto sono i presupposti per cui non si può andare avanti. Provando un attimo ad allargare l'orizzonte, qualora poi tutti i ricorsi presentati dall'azienda avessero ragione di esistere, le strategie dell'ente muterebbero? Guardi, noi abbiamo portato avanti un progetto per tanti anni, è chiaro che se la Prefettura dovesse modificare totalmente, radicalmente o comunque modificare il proprio provvedimento è chiaro che insomma si vedrà cosa bisognerà fare, è chiaro che insomma se dovessero cambiare tutti i presupposti il discorso potrebbe anche riaprirsi. Sulla vicenda c'è da registrare anche la nota della Straferro, con ordinanza depositata il 14 aprile scorso il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso cautelare della Straferro e ha sospeso in via d'urgenza i provvedimenti della Prefettura di Ascoli che avevano paventato l'esistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa all'interno della società. Il Consiglio di Stato si legge nella nota ha infatti escluso la possibilità di configurare o anche solo sospettare un qualsivoglia coinvolgimento della società in attività con soggetti non trasparenti. La società aveva sempre dichiarato l'assoluta infondatezza, prosegue la nota, della congettura prospettata dalla Prefettura e oggi la decisione del Consiglio di Stato rende giustizia alla serietà e alla onorabilità della Straferro e alla sua storia trentennale. Per ciò che più conta la decisione rimuove in via diretta e immediata gli effetti interdittivi dell'informativa prefettizia e consente alla Straferro di riprendere con serenità la sua attività imprenditoriale proseguendo le commesse in essere acquisendo nuovi contratti. L'ordinanza del Consiglio di Stato conclude, riapre nuovi scenari anche per il project financing del Teatro di Teramo. Infatti se in presenza dell'informativa prefettizia il Comune aveva dovuto bloccare per legge in via automatica il rilascio dell'aggiudicazione definitiva a favore della Straferro, oggi il Comune è tenuto sempre per legge a riattivare il procedimento di aggiudicazione. Una clamorosa svista ma ora la Regione deve rimediare chiedendo al Governo la proroga dello Stato di emergenza per l'alluvione del 2011 e quanto sostiene il Consigliere regionale del PD Claudio Ruffini. Sentiamo. Ruffini dopo tanto parlare si scopre anche che la Regione si è tra virgolette dimenticata di chiedere la proroga dello Stato di emergenza allo Stato centrale. Grave, gravissimo perché tra l'altro il Consiglio regionale su proposta del gruppo del PD, prima firmatari sottoscritto, aveva posto questo come argomento in Consiglio e fatto votare ed era intervenuto anche lo stesso Presidente Chiodi a condividere quella risoluzione dove si diceva appunto che bisognava chiedere la proroga allo Stato di emergenza che stava per scadere e scadeva il 31 marzo, cosa che aveva già fatto la Regione Marche, quindi c'era un riferimento concreto e poi in quella risoluzione si tornava a insistere a avere soldi per quanto riguarda il ristoro delle somme già spese e poi altri soldi per i ripristini. Abbiamo scoperto appunto che questo non è stato fatto, è un fatto veramente molto grave perché dopo aver promesso il Presidente Chiodi venendo a Teramo nella famosa sala polifunzione della provincia, ai sindaci, andate avanti, spendete, poi provvederemo a ristorarvi addirittura. Adesso che la cosa diventava fattibile ed è diventata fattibile per la Regione Marche che ha avuto 25 milioni, l'Abruzzo purtroppo non è a posto con le carte. Io mi auguro, mi auguro, questa è la ragione per cui ieri noi abbiamo insistito attraverso la comunicazione che si vada ai ripari, cioè che si possa dire al Governo che siamo sbagliati come spesso succede per l'Abruzzo, presentiamo oggi la nostra richiesta di prore e quindi dateci come appunto è avvenuto per le Marche i soldi sia per il risorto che per i ripristini. Scontro sul fondo salariale in Regione. La rappresentativa sindacale della Giunta regionale ha chiesto un incontro urgente con l'assessore regionale al personale Federica Carpineta. Intanto tra i dipendenti regionali permane lo stato di agitazione. Vediamo. La RSU della Giunta regionale d'Abruzzo all'indomani della trattativa con il dirigente regionale del settore in merito al fondo salariale chiede un incontro urgente con l'assessore al personale Federica Carpineta per poter discutere del fondo. Intanto permane lo stato di agitazione e se non dovessero arrivare segnali positivi rispetto alle richieste i dipendenti si limiteranno a svolgere solo le funzioni minime previste. La Giunta, spiega la responsabile RSU CGL della Regione, Rossana Mattoscio, vuole che con i soldi destinati ai dipendenti si paghi anche parte degli stipendi dei lavoratori degli enti sciolti come ARSA e APTR senza però aumentare le risorse. In questo modo ogni dipendente della Regione ci rimetterà 5.000 euro all'anno. Nel corso della trattativa con il dirigente del personale della Regione, aggiunge l'esponente della CGL, c'è stato detto che non c'è alcuna intenzione di aumentare il fondo salariale. Da tempo abbiamo proclamato lo stato di agitazione. Una convocazione dell'assessore Carpineta doveva essere naturale ma non c'è stata. Allora siamo noi a chiederle un confronto. A partire dal 18 aprile, giorno in cui la Giunta incontrerà i sindacati sulla riorganizzazione del personale, conclude l'esponente della CGL, se non ci saranno segnali positivi su fondo e pianta organica, i dipendenti della Regione si atterranno ad ottemperare solo ed esclusivamente le funzioni previste dalle declaratorie del profilo di appartenenza. Pio Rapagnà, presidente del Comitato Città per Vivere, ha deciso di iniziare lo sciopero della fame contro la riperimetrazione per la salvezza della riserva naturale del Borsacchio, argomento in discussione nel Consiglio regionale del 24 aprile. Chiesto il sostegno morale dei cittadini in servizio. Uno sciopero della fame per la salvezza della riserva naturale regionale del Borsacchio, istituita nei comuni di Roseto e di Giulianova. Pio Rapagnà, responsabile del Comitato Città per Vivere, ha deciso per un'azione forte per sensibilizzare l'opinione pubblica sui ritardi che riguardano l'istituzione della riserva. Ho dato inizio ad uno sciopero della fame per chiedere al Consiglio regionale dell'Abruzzo la salvezza della riserva del Borsacchio, dice Rapagnà. La Sise regionale, il prossimo 24 aprile, si troverà ad esaminare il progetto di legge presentato dal consigliere di future libertà, Berardo Rabuffo. Esso prevede la revisione e la riperimetrazione dei confini della riserva. Rapagnà ricorda, peraltro, che all'ordine del giorno della stessa seduta è stato inserito anche il progetto di legge presentato dal capogruppo del PDL, Lanfranco Venturoni. Tale progetto prevede addirittura l'abrogazione dell'articolo 69 della legge regionale istitutiva della riserva stessa e di conseguenza, se approvato, comporterà la completa e definitiva cancellazione dell'area naturalistica di Roseto, che riguarda anche il territorio di Giulianova. Il presidente di Città per Vivere fa sapere che la sua nuova iniziativa non violenta andrà avanti per tutto il tempo che sarà necessario. Chiedo al presidente della giunta regionale Gianni Chiodi, affermare a Pagnà, al presidente dell'amministrazione provinciale di Teramo, Walter Catarra, al sindaco di Roseto, Eno Pavone, al sindaco di Giulianova, Francesco Mastromauro, di procedere con somma urgenza e, se possibile, prima della seduta del Consiglio regionale del 24 aprile, alla nomina e all'insediamento dell'organo di gestione della riserva, così come stabilito dallo stesso per quanto riguarda la legge istitutiva dell'area naturalistica. Rapagnà lancia infine un appello ai cittadini di Roseto e Giulianova affinché sostengano la sua iniziativa non violenta, partecipando attivamente e promuovendo altre manifestazioni spontanee di sensibilizzazione e, per quanto possibile, effettuando almeno un giorno di digiuno simbolico a rotazione. Bene la firma del protocollo d'intesa sull'area di crisi della Val Vibrata, ma ora servono forme di finanziamento certe. Questa è la posizione del Partito Democratico che chiederà un impegno al governo attraverso i propri rappresentanti istituzionali. Vediamo il servizio. Luca, il riconoscimento dello stato di crisi della Val Vibrata rappresenta un primo passo, però mancano le forme di finanziamento dal vostro punto di vista. Sì, è un primo passo, nel senso che il documento che ha emanato la provincia ha avuto una grossa partecipazione, una grossa condivisione da parte di tutti gli attori in campo. La sensazione, però, è che al di là del riconoscimento della crisi della Val Vibrata, che non è una crisi di una zona, è la crisi, come dire, della provincia di Teramo, in quanto buona parte dell'occupazione è stata in qualche modo interessata in quel settore, noi stiamo cercando un'interlocuzione diretta con il governo, in quanto domani, per la prima volta, il ministro Barca incontrerà tutti gli attori del patto dello sviluppo e la Val Vibrata rappresenta all'interno delle misure richieste dal patto un'area su cui intervenire. La sensazione, però, che si ha è che al di là di questo riconoscimento non ci sono in questo momento né misure concrete da parte del Governo nazionale né misure specifiche da parte della Regione Abruzzo. La nostra volontà, quindi, come dire, di incentivare questo tipo di trattativa, se mi passate questo termine, tra Governo nazionale e Governo locale, è questa, anche perché ad oggi l'unica cosa che abbiamo certamente in mano sono i fondi FAS e io ritengo, come ritenevamo allora, che siano l'unico strumento certo che noi abbiamo in Regione Abruzzo per tentare di dare una piccola risposta a quella comunità che, nell'ambito degli ultimi tre anni di Governo di questa Regione, non ha ricevuto alcuna forma di sostegno in un momento di gravissima crisi che ha colpito famiglie, imprese e soprattutto un intero territorio che era la locomotiva di questa provincia. E restiamo in Val Vibrata, in particolare parliamo adesso del Comune di Sant'Omero che ha presentato alcune importanti novità. Vediamo. Il Comune di Sant'Omero ha deciso di andare incontro alle esigenze di imprese, esercenti, professionisti, ma anche del cittadino, con queste novità che riguardano appunto il mondo dell'informatizzazione. Sì, in un momento così delicato dell'economia del Paese e anche del terramano dobbiamo attrezzarci per ricevere subito e dare immediatamente delle risposte, per ricevere le informazioni e le richieste dei cittadini e delle imprese, di quelle poche che ci distanno e di quelle che torneranno, perché io sono sicuro che questo è un periodo di transizione e poi chiaramente noi abbiamo intanto un marchio, un marchio italiano e le aziende torneranno da noi. Noi siamo pronti a riceverli, ci siamo informatizzati, si può dire, al massimo. Nei prossimi giorni poi vi daremo altre notizie ancora più positive per quanto riguarda l'informatizzazione del sistema e quindi per raggiungere meglio sia i cittadini che le imprese e le istituzioni. Digitecno è il partner informatico che ha sviluppato tutto il progetto informatico al Comune di Sant'Omero con la creazione dello sportello unico delle attività produttive, lo sportello unico edilizia e il sistema informativo territoriale, tre strumenti che chiaramente semplificheranno la vita soprattutto di professionisti, di esercenti e di imprese. Sì, l'obiettivo è proprio questo, all'interno di un unico strumento integrato che va dal SUAP, sportello unico attività produttiva, al SUAP, sportello unico per l'edilizia, con l'integrazione di dati territoriali quali cartografici o elementi di pianificazione hanno l'obiettivo e l'unico obiettivo quello di semplificare la vita, se così si può chiamare, quindi le attività quotidiane di chi poi si rivolge alla pubblica amministrazione per aprire attività e ai professionisti che devono comunque fare da supporto al cittadino. Questa sera alle ore 20 e 30 sulla nostra emittente andrà in onda la diciannovesima puntata di Video Music Live, protagonista della serata la band Amiche per la musica, composta da Tania Marchetti, Francesca Perpetua e Gemma Deustacchio. E adesso andiamo a vedere insieme la rassegna stampa di oggi. Rassegna stampa locale lunedì 16 aprile 2012. Il messaggero, colpo di scena, si riapre tutto per il nuovo teatro. Il Consiglio di Stato dà ragione alla ditta che ora chiede di far ripartire il progetto. La prefettura di Ascoli aveva imposto al comune di revocare la giudicazione alla straferro. Giulianova, ora tutti vogliono l'università in centro, in un palazzo ristrutturato oppure all'ex Castorani. Giulianova rubano ferro all'ex Saig e poi litigano due rumeni denunciati per lesioni gravi. Segnalato a Mociano uno strano furgone con uomini in divisa. Fadini, il presidente della Lega Attacca Mastromauro, a sorpresa su Radio Rai, Macalli durissimo con il sindaco per aver messo in dubbio che tutti i campi siano a norma. Il tempo, trasporti, tre biglietti per viaggiare sullo stesso treno. Stop dal primo maggio al ticket unico sulle linee Termoli-Pescara-Giulianova-Teramo-Sansalvo-Lanciano-Vasto. Economia, Confindustria sbotta, la regione non ci ascolta. Azienda in difficoltà per il blocco dei fidi bancari. Il centro, Teramo all'Uvione, sindaci e PD contro la regione. Scoppia la protesta dopo che Chiodi dimentica di chiedere la proroga per ottenere i soldi. Teramo delitto mazza, Bisceglia rischia l'ergastolo. Oggi la sentenza, ma il teramano imputato di omicidio si dichiara innocente. Pineto, l'ultimo saluta l'imprenditore Rossi Tascioni. Il titolare del pastificio è morto d'infarto a 65 anni, sabato, mentre giocava la schedina. Scuola e il di poppa sfida la crisi, crea animatori di feste che trovano subito lavoro. Adesso invece scopriamo che tempo farà nelle prossime ore con Meteoteramo.it Previsioni per oggi in provincia di Teramo. Nel pomeriggio possibilità di piovaschi a partire dai settori interni. Neve oltre i 1800 metri. Nella notte cielo molto nuvoloso con fenomeni deboli e intermittenti. Temperature stazionarie, massime comprese tra 12 e 15 gradi nelle pianure dell'entroterra. Tra 13 e 16 gradi sulle coste. Venti deboli o moderati settentrionali. Mare quasi calmo, poco mosso. Siamo allo sport, iniziamo con il basket. Stasera Teramo in campo al Palatiziano contro la Cea Roma. Non al meglio Bruno Cerelle e Gianluca Lulli, il cui eventuale impiego verrà valutato poco prima della palla a due. La squadra di Ramagli a caccia dell'impresa dopo la sconfitta di ieri di Casale contro Siena. Mensana che ha battuto l'ultima in classifica per 82 a 76. Ma vediamo il servizio sugli avversari di stasera del Teramo. Che sia una stagione deludente fino a questo momento è sotto l'occhio di tutti. Roma non è dove i tifosi, chi ha costruito la squadra e presidente si aspettavano che fosse. Ad un passo dalla zona salvezza con Coccilardo, risalita verso la zona playoff da quando il suo posto è stato preso da Calvani. In mezzo, insofferenze con due giocatori, che hanno poi fatto le valigie e sono andati via. Diedovic e Dasic, che le voci volevano più interessati all'aspetto ludico della palla canestro fuori dal campo, che ai problemi della squadra, hanno detto addio a Roma e c'è mancato poco che lo facesse anche Clay Tucker, trattenuto per il rotto della cuffia con il riaprirsi della speranza playoff. L'ex Biancorosso, che a Teramo cestisticamente ci è nato, viaggia ad una media di 15 punti a partita. Se in due sono andati via, è arrivato Tornado Varnado. L'ex Pistoia è il centro che a Roma mancava dopo i problemi fisici e non di Crosariol. Il pivot sta dando concretezza alla CEA, con già 10 punti di media all'attivo, oltre a 5 rimbazzi catturati a gara. Chi c'era è Gigi Datome, anima della Virtus sia sotto la gestione Lardo che di quella di Calvani. Oltre a lui, Gordic e Slokar chiudono l'ideale starting five, con Caziusis, Maestransi, Tonnoli e Mordente pronti ad entrare a gara in corso. Roma ha comunque il secondo miglior attacco del campionato, dietro a Siena, ed è in striscia positiva da tre giornate, riduce dalla vittoria contro Caserta, Treviso ed Avellino. Ad incombere, anche su Roma, ci sono i problemi economici extra basket. Il presidente Toti a fine stagioni lascerà e dal momento la Virtus non ha un'alternativa alla guida che possa assicurare continuità al progetto. Roma quindi come Cremona, Pesaro, Avellino, Caserta, Montegranaro, Biella ed ovviamente Teramo. Viene da chiedersi quale vittima illustre dovrà fare l'attuale sistema cestistico prima di convincersi a fare un passo indietro. Intanto ricordiamo che la gara di questa sera tra Roma e Teramo appunto verrà trasmessa in diretta sulla nostra emittente Palla 2 alle 20.30. Ricordiamo a Roma intanto ci saranno anche alcuni tifosi biancorossi partiti sia con mezzi propri che con il pullman messo a disposizione gratuitamente dalla società. E adesso il calcio dopo lo stop dei campionati deciso dalla FIGC in conseguenza della morte sabato scorso di Pier Mario Morosini. La seconda divisione recupererà la giornata non giocata domenica, il prossimo mercoledì 25 aprile. Dopodomani invece il Giulianova sarà impegnato in trasferta contro la Vibonese. E' scoppiata intanto la polemica tra il sindaco Mastro Mauro e i vertici della Lega Pro in servizio. Non accenna a placarsi la polemica sugli stadi di Lega Pro sollevata dal sindaco di Giulianova Francesco Mastro Mauro che si è visto respingere dal prefetto di Teramo l'ordinanza di riapertura del Fadini. Dopo aver chiesto l'intervento del Ministero dell'Interno per verificare l'idoneità degli impianti sportivi che ospitano gare di prima e seconda divisione, il primo cittadino giuliese è stato criticato dal direttore della Lega Pro Francesco Ghirelli e dal presidente Mario Macalli. Quest'ultimo in un'intervista a Radio Rai ha invitato Mastro Mauro ad occuparsi dello stadio Fadini e non degli altri impianti. Il sindaco non ha voluto replicare alle affermazioni ma ha già avviato la procedura per richiedere copia dell'intervista rilasciata da Macalli. Ed è intenzionato tra l'altro a portare avanti la sua battaglia. Per quanto riguarda la presa di posizione del direttore Ghirelli, quest'ultimo pur bacchettando Mastro Mauro ha riconosciuto che ci sono degli impianti non a norma ma che hanno ottenuto l'aderoga per ospitare le partite della squadra locale come nel caso del Gavorrano, del Neapolis e la Versa Normanna che giocano a fratta maggiore. Il problema è che il Fadini è inagibile per mancanza di un adeguato sistema antincendio. Altri stadi hanno avuto l'aderoga nonostante carenze strutturali ben più gravi della mancanza di un impianto antincendio. Intanto dopo lo stop di domenica scorsa per la morte di Pier Mario Morosini durante la gara Pescara-Livorno le partite di Lega Pro saranno recuperate il 25 aprile il Giulianova torna in campo mercoledì nella difficilissima trasferta di Vibo Valencia. I giallorossi affronteranno la Vibonese, diretta concorrente per la salvezza, battuta l'andata 3-1. I calabresi hanno sei punti di ritardo sulla formazione allenata da Marco Tosi ed è chiaro che la gara di mercoledì diventa fondamentale in chiave salvezza in previsione anche del riposo in programma per il Giulianova domenica prossima. In vista della trasferta Calabra Tosi recupera Daniello e Delgrosso e spera di poter contare anche su Testoni, Faragalli e Terrenzio. A Morghe e compagni andrebbe bene anche il pareggio in modo tale da mantenere inalterato in classifica il vantaggio sui Rosso-Blu e con lo scontro diretto a favore. La Serie D non si è giocato anche in Serie D sabato però in campo il San Nicolò che ha battuto per 3-2 la Sante G10 San Nicolò che ha di fatto ottenuto la salvezza manca solo l'ufficialità, dunque la matematica però va detto che c'è la soddisfazione da parte del Presidente Salvatore Di Giovanni e ovviamente anche da parte dell'attaccante Mattia Arsi. Ascoltiamoli. Presidente, ancora un'affermazione per il San Nicolò che in questo finale di stagione sta dimostrando comunque di attraversare un buon stato di forma. Sì, sì, diciamo sono d'accordo ma il San Nicolò ha disputato un grandissimo campionato dall'inizio alla fine devo dire che oggi credo che abbiamo raggiunto la salvezza quasi matematica quindi adesso non prendiamo più di salvezza abbiamo fatto un campionato straordinario e credo meritato perché non ci ha regalato niente nessuno e devo dire che sono più che soddisfatto di questo campionato. L'affermazione odierna costruita soprattutto nel primo tempo chiuso sul 3-0 poi qualche patema daimo nel finale con la stagione che si è rifatta sotto. Sì, abbiamo giocato un grosso primo tempo 3-0 che ci stava tutto o il secondo tempo sinceramente forse non siamo rientrati in campo perché sai il risultato era già acquisito i ragazzi si sono un po' sconcentrati diciamo così però insomma alla fine abbiamo sofferto un pochino però l'importante era raggiungere questo risultato perché con questo risultato praticamente quasi matematicamente siamo salvi e questo per noi era l'obiettivo primario l'obiettivo principale quindi siamo più che soddisfatti ho fatto un plauso ai ragazzi perché non solo per la partita di oggi ma per tutto il campionato perché abbiamo fatto secondo me un campionato straordinario. Siete arrivati a quota 46 in classifica ci sono ancora tre partite quale sarà lo spirito con cui affronterete gli ultimi tre avversari? Anche per il rispetto degli avversari ce la giocheremo sicuramente siamo settimi mi pare e ci vogliamo restare se è possibile faremo di tutto, non regoleremo sicuramente niente a nessuno perché giusto anche così è un fatto etico quindi come abbiamo giocato oggi contro la Sant'Egidiese giocheremo anche le altre partite poi possiamo perdere, possiamo vincere sarà il campo a deciderlo però sicuramente da parte nostra ci sarà il massimo impegno. Arse oggi è tornata una maglia da titolare per te una bella vittoria che conferma il vostro buon stato di forma? Sì, sì perché ma se tanto che non giocava se quattro partite che non giocava oggi il mister mi ha detto che deve andare al campo quindi no abbiamo vinto scontento. San Nicolò praticamente è salvo una bella stagione quella nel primo anno in Serie D Sì, sì quello era il settimo nostro la salvezza tutta la società i giocatori siamo tutti contenti mancano tre partite penso che dobbiamo andare alla fine se possiamo fare altri punti va benissimo. La squadra dal punto di vista fisico sembra essere in buono stato di forma e ovviamente negli ultimi tre giornali si cercherà di migliorare questa classifica. Sì, sì la squadra è sempre sempre stato bene è una squadra che lavoriamo tutti per fare l'obiettivo che quello era la salvezza sì che penso che è una squadra che può dare tanti. Te sei tornato a giocare a San Nicolò dopo alcuni anni in cui hai tornato a giocare in patria qual è il tuo bilancio personale? Sì, è tornato io stavo qua tre anni fa quando stavo in silenzio ho giocato cinque mesi dopo è tornato perché mi ha parlato della società conosco la società e per quello è tornato è una società seria sì che mi piace San Nicolò e mi pone contento perché l'occezione era la salvezza sì che contentissimo. E chiudiamo con la pallamano leader Coppa Tecno-Elettronica escono sconfitte dagli incontri del fine settimana Salerno e Bolzano preoccupano tra le bianco-rosse le condizioni di Elena Barani ma vediamo il servizio. Arriva il servizio sulle gare disputate sabato dalle due squadre di pallamano di Teramo. Sentiamo. Ancora un attimo di pazienza ricordiamo che hanno perso sia Leader Copp che Tecno-Elettronica Leader Copp che adesso deve fare i play-off la Tecno-Elettronica invece li sta disputando e ha perso a Bolzano vediamo il servizio. Si interrompe a Salerno la striscia di 14 vittorie consecutive della leader Copp Teramo una sconfitta che la squadra di La Brecciosa si poteva permettere visto il primo posto matematico già in cassaforte una sconfitta che però le bianco-rosse hanno provato ad impedire in tutti i modi la sfortuna ci ha poi messo lo zampino fermando in gara il capitano Elena Crese ed Elena Barani la prima per un colpo al naso la seconda per una distorsione alla caviglia le prime analisi dopo la gara non hanno riscontrato fortunatamente nessuna frattura per il capitano che sarà quindi regolarmente in campo sabato prossimo a Puntinia per gara 1 della semifinale Scudetto contro la futura Roma a preoccupare sono invece le condizioni della Barani la caviglia del capitano della nazionale si è gonfiata quindi bisognerà attendere qualche giorno prima di fare ulteriori esami e valutare se Elena Barani potrà essere in campo sabato prossimo se la sconfitta a Salerno è stata quindi in dolore e la sfortuna a provare a scombinare i piani Scudetto della Lidercop la Tecnone Tronica ha invece ceduto il passo a Bolzano contro la capolista della stagione regolare un 35 a 28 per i padroni di casa che però non rispecchia quanto visto in campo i ragazzi di Fonti hanno infatti addirittura chiuso avanti al termine del primo tempo 16 a 14 poi hanno subito alcune dubbie decisioni arbitrali perdendo Ropainas e Vaccaro nel momento decisivo del secondo tempo sabato prossimo alla Tecnone Tronica basterà comunque vincere per arrivare a gara 3 con la salvezza ormai in tasca da tempo i biancorossi non avranno più nulla da perdere in chiusura vi ricordo la programmazione di oggi su Teleponte intanto alle 15 tra breve vi aspetto con un nuovo appuntamento di 4 giorni alle 17.30 l'edizione flash del nostro notiziario alle 19.15 l'edizione serale del Tg e poi non perdete alle 20.30 la diretta della gara di basket tra Acea Roma e Banca Tercas questa sera alle 20.30 in diretta questa gara verrà trasmessa su Teleponte vi ricordo che potete seguire tutte le nostre trasmissioni i nostri notiziari sulla nostra web tv all'indirizzo www.teleponte.it e con questo è tutto grazie per l'attenzione buon pomeriggio arrivederci